Ho smesso di contare le volte in cui, arrivata alla seconda riga, ho cancellato e riscritto tutto nuovamente. Cercavo un inizio d'effetto, qualcosa di poetico e vero allo stesso tempo, qualcosa di grandioso, ma agli occhi non ci sono riuscita. Poi ho capito, ricordando ciò che non avevo mai saputo, che per i grandi cuori che muoiono nel corpo, ma che continuano a battere nel respiro della notte, non ci sono canoni o bellezze regolari, armonie esteriori, ma tuoni e temporali devastanti, che portano ad illuminare un fiore nascosto, distruggente bellezza.